Nonostante il maltempo vi auguro una buona giornata. Oggi è martedì 16 maggio 2023 e questa è la rassegna stampa di Fano TV. Leggiamo i giornali mentre i nuvoloni si stanno addensando, anzi sono ancora incombenti nel nostro territorio, in modo particolare su tutta la provincia di Marche Nord. Ne parleremo dopo con le previsioni del tempo. Intanto diamo un'occhiata al manaco del giorno e vediamo chi si festeggia. È un santo molto vicino a noi e quindi anche conosciuto dalle nostre parti. È Sant'Ubaldo il patrono di Gubbio. Sant'Ubaldo visse nel XII secolo, prima si riterò a Fonte Avellana, poi su ordine di Papa Onorio II divenne Vescovo di Gubbio. E qui cercò con tutti i modi di porre pace alle lotte tra le famiglie che erano avverse l'una contro l'altra. E soprattutto suo merito fu quello di salvare la città di Gubbio dalla promessa di distruzione che aveva pronunciato Federico Barbarossa. Quindi la città di Gubbio deve proprio al suo patrono la salvezza della città. Vediamo ora le previsioni del tempo. Ovviamente non sono buone. Ecco qua la grafica. Vediamo i nuvoloni che si estendono un po' su tutte le Marche, in modo particolare sulla provincia di Pesaro Urbino. Una giornata di maltempo con piogge e rovesci diffusi anche di forte intensità, specie sul Pesarese e l'Urbinate. Venti a tratti forti sulle coste espireranno da est e sud-est, mentre nell'interno da nord-nord-ovest. Le temperature da 14 a 18 gradi, il mare è molto molto mosso. Tutto questo dovrebbe attenuarsi verso la serata, ma poi anche i prossimi giorni saranno particolarmente turbolenti. Allora, apriamo i giornali. Diamo subito un'occhiata al Corriere Adriatico per quanto riguarda l'andamento delle elezioni. Le vediamo qua nella pagina dedicata alla Regione. Ancona è al Cardiopalma, testa a testa tra il candidato del centro-sinistra e quello del centro-destra, con leggera prevalenza da parte di quest'ultimo. E poi vediamo un po' così, a carattere sparso, l'andamento nelle altre sezioni, nelle altre località. Ancona è al Cardiopalma e c'è chi evita i ballottaggi, tutto il resto è quasi noia, afferma il giornale. Falconara e Grotta Mare si fermano al primo turno con Signorini e Rocchi. Ostravetere passa al centro-destra dopo dieci anni. Castel di Lama resta grillina. Vediamo quindi su questa tabella dove vengono esemplificati i risultati parziali per quanto riguarda, dato che ancora ieri lo scrutinio era in corso. Ancona 87 sezioni su 99 scrutinate. Vediamo che sta prevalendo la coalizione tra Fratelli d'Italia, Forza Italia, Legale e Liste Civiche con il 45,14% candidato Silvetti Daniele. Mentre Ida Simonelli del centro-sinistra è al 41,44% e si va al ballottaggio. A Falconara è stato eletto sindaco Tiziano Consoli della lista civica con il 66,66% e perde Stefania Signorini delle civiche del centro-destra. A Ostravetere è eletto il sindaco Massimo Corinaldesi. A Chiaravalle Cristina Micucci. A Morro d'Alba è il sindaco Enrico Ciarimboli. E poi vediamo invece altri risultati. Vediamo il ballottaggio per esempio che si farà a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo tra Paolo Petrini del Partito Democratico e Liste Civiche e Massimiliano Ciarpella del centro-destra. Invece a Montegiorgio è stato eletto sindaco Michele Ortenzi, così ad Altidona Giuliana Porrà. Vediamo nella provincia di Macerata. A San Ginesio è eletto sindaco Giuliano Ciabocco con il 79,54%. A Penna San Giovanni sindaco Stefano Burocchi con il 62,34% fa parte di una lista civica. A Gagliò Alessandro Botticelli, sempre lista civica, eletto sindaco con il 94,85%. Veramente un diluvio di voti. Nella provincia di Ascoli vediamo i sindaci eletti a Grotta Mare. Rocchi Alessandro della lista civica Castel di Lama. Mauro Bocchicchio del Movimento a Cinque Stelle è stato eletto con il 50,44%. Mentre a Ripa Transone è eletto sindaco Alessandro Lucciarini. Nella provincia di Pesaro Urbino non ci sono votazioni e quindi questa è la situazione attuale. Poi ovviamente i risultati definitivi sono ancora in etinere e quindi verranno proclamati probabilmente nella giornata di oggi. Dato un'occhiata alla pagina del Corriere per quanto riguarda le elezioni, vediamo subito la prima pagina del resto del Carlino per quanto riguarda la città di Fano. E si parla di un ingorgo stradale veramente caotico che si è svolto nella giornata di ieri sulla Statale 16, diciamo meglio nel tratto urbano della Statale 16. Quello che esce oppure entra, secondo della direzione di marcia, dalla periferia nord, ovvero in Viale Romagna, da e verso Pesaro. Grande ingorgo, 45 minuti in coda, sarà così per un'altra settimana. È un sacrificio questo che gli automobilisti sono costretti a compiere perché in quel tratto di strada si fanno le asfaltature. E quindi c'è un senso di marcia alternato con i movieri che regolano il traffico. Disagi e polemiche al debutto dei lavori di asfaltatura in Viale Romagna e Viale Primo Maggio. Ne avevano veramente bisogno queste strade. Sono strade ad alta percorrenza, battute da molti, molti veicoli. La Statale 16 è il collegamento tra il sud e il nord d'Italia e quindi è molto trafficata. Interviene anche l'assessore Brunori ai lavori pubblici che dice che un intervento era urgente, non si poteva aspettare. E si propone il tema della variante, di una variante che possa così dirigere il traffico, quella di Gimarra ovviamente, che possa costituire un'alternativa al traffico sulla Statale alleggerendo quest'ultima in un'altra posizione. Ma qui ci sono tante, tante polemiche con ricorsi e contro ricorsi. Restiamo sempre in tema di viabilità per dare la notizia che ieri è stata inaugurata la doppia rotatoria del Codma. Un incrocio questo molto molto importante perché è molto trafficato da parte dei residenti di Rosciano, che vanno verso Fano e viceversa, ma soprattutto anche da coloro che frequentano la zona industriale di Bellocchi. Quindi è un incrocio trafficato in tutte le ore del giorno. Ed era un incrocio pericoloso in precedenza, perché qui poi sono verificati anche tanti, tanti incidenti. Ora invece con due rotatorie, una più grande e una più piccola, la situazione è stata posta in sicurezza. L'intervento è costato mezzo milione di euro ed è stato attuato in due steppe, perché dopo l'esecuzione del progetto originario si era visto che l'ingresso nelle rotatorie era troppo stretto, soprattutto per far passare i grandi yacht che dalla zona industriale di Bellocchi raggiungono il porto di Fano. E quindi sono dovuti rifare altri lavori per ampliare gli accessi. Ora tutto è a posto e ieri il taglio del nastro da parte del sindaco Massimo Seri e dall'assessore Brunori. Nel contempo è stato avviato il cantiere per quanto riguarda la nuova rotatoria di Fenile. Anche qui abbiamo un incrocio molto importante perché deve essere posto in sicurezza. E negli articoli pubblicati questa mattina ci sono tutte le previsioni per quanto riguarda il traffico, l'interruzione di strade oppure la persecuzione della viabilità. Un articolo tutto da leggere nei particolari. Giriamo la pagina sempre sul resto del Carlino e vediamo ancora un altro intervento importante perché si dà l'avvio alla ristrutturazione di Piazza Marcolini, una delle piazze più belle, piccole, appartate della città, del centro storico di Fano. Piazza Marcolini, ecco il titolo, faccia a faccia con i residenti. Perché? Perché i lavori di estetica, di ristrutturazione della piazza comportano anche lo spostamento dei parcheggi e questo è un tema molto molto delicato. Erano state individuate due vie dove spostare i parcheggi, dove i residenti potevano sostare le loro auto in deroga ai dischi orari e quindi erano parcheggi liberi per loro. Uno in Via Nini, uno in Via Mariotti. Ma in Via Mariotti ci sono lavori in corso, si fanno i marciapiedi, si fa la pista ciclabile, si fanno le asfaltature e quindi oggi si dovrà discutere dove trovare altro posto per accontentare i residenti di Piazza Marcolini che ovviamente si trovano penalizzati. I lavori dureranno circa sei mesi e quindi per tutto questo periodo dovranno trovare un posto per le loro auto. E poi parliamo ancora del maltempo, parliamo ancora del maltempo perché ieri sera il sindaco di Fano Massimo Aseri ha emesso una ordinanza con la chiusura delle scuole e l'attivazione del COC, il centro operativo comunale, che ha subito durante la notte monitorato l'andamento dei fiumi, dei torrenti e dei fossi per così evitare, per anzi cercare di prevenire disastri di carattere di esondazione. Allerta meteo, chiuse le scuole, aperto il centro operativo, l'assessore vicesindaco Fanesi, monitorati i corsi d'acqua a Guzzi, messi in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione. Aguzzi è l'assessore regionale Stefano Aguzzi che è delegato alla protezione civile. E poi si parla di sanità in questo articolo a fondopagina del resto del Carlino perché c'è una richiesta da parte del Movimento 5 Stelle perché si faccia una seduta monografica del Consiglio Comunale sulla sanità. Ci sono diversi punti che sono da chiarire in merito al piano sanitario regionale. Quali sono questi punti? Lo vediamo qui in questo articolo. Innanzitutto il futuro dell'ospedale Santa Croce e poi lo stato di avanzamento della nuova palazzina per le emergenze che deve essere realizzata a fianco nella zona limitrofa al pronto soccorso dove c'è il parcheggio e poi il futuro del punto nascita e del reparto di ostetricia e ginecologia che ora è nel Santa Croce, nell'ospedale di Fano. C'è ancora da definire lo stato di avanzamento della progettazione dell'ospis pediatrico nell'ambito della rete delle cure pagliative all'ospedaletto di Via Tazzoli e poi ancora la definizione di nuovi distretti sanitari in relazione agli ambiti territoriali che dovrebbero combaciare, ora invece non lo fanno. Ed infine la situazione dei servizi per la salute mentale. Questo è un problema veramente importante da risolvere perché ci sono tante tante famiglie che attendono un aiuto in merito a questa malattia, a questa patologia che è veramente gravosa. E poi abbiamo una denuncia della Lega, una denuncia della Lega che viene effettuata tramite una interrogazione in Consiglio Comunale per quanto riguarda lo stato di degrado in cui versa la zona di Sassonia Sud. Quella del bersaglio per intenderci, quella dell'ex pista dei go-kart. Sterpaglie e sporcizia ovunque a Sassonia Sud regna il degrado. C'è un affondo di Ser Filippi ma il documento è firmato anche da Gianluca Ilari, Marianna Magrini, Luigi Scopelliti, ovvero tutto il gruppo consigliare della Lega in Consiglio Comunale. È necessario intervenire prima dell'estate perché poi c'è la stagione turistica, quella è una zona anche frequentata da molti turisti, depositata una interrogazione in cui si chiede anche di realizzare un nuovo parcheggio sui terreni comunali, un nuovo parcheggio che dovrebbe compensare tutti i posti macchina che sono stati sottratti in Viale Dante e Liglieri e rispetto ai quali ancora non si è individuata la zona dove ripristinarli, perché poi ci sono anche i residenti di Viale Dante e Liglieri che sono stati un po' penalizzati dalla realizzazione della pista ciclabile che ha comportato questo provvedimento. E poi bloccati a pola gli scogli per la zona nord, intanto arriva il maltempo e proprio il maltempo, il mare mosso che ha bloccato la motonave che avrebbe dovuto portare proprio all'inizio di questa settimana gli scogli per coprire il buco di Sassonia davanti ai bagni Carlo. Il carico è fermo per le condizioni del mare, sono stati caricati gli scogli sulla motonave, ma questo ovviamente non può attraversare l'Adriatico con le condizioni meteomarine che ci sono attualmente. Occorrerà aspettare il bel tempo, qualche giorno in più, per cominciare a depositare il primo scoglio in merito a questo varco che ha causato tanti tanti danni alla concessione balneare antistante. Giriamo ancora alla pagina, siamo nell'entroterra, in modo particolare a Cartoceto, dove la grandina ha causato veramente grandi danni a tutte le culture, in modo particolare alla vite. Ne ha sofferto Roberto Lucarelli, uno dei produttori più importanti del nostro territorio, per quanto riguarda il Bianchello del Metauro. Grandine, Lucarelli, Persi, 10 ettari di vigna. Il noto produttore di Bianchello e Sangiovese dice non c'è rimasto nemmeno un acino, un fumo, mille quintali, 280 mila euro di vini. Pensate, quando uno lavora tutta la stagione, fa degli investimenti, chiama degli operai, eccetera, poi alla fine vede svanire tutto in una nottata a causa del maltempo e purtroppo in quella zona di Grandine ne è accaduta parecchia. Abbiamo perso un terzo del totale della nostra superficie vitata, dice Lucarelli. La mia tenuta di Carignano è andata totalmente distrutta e anche la vendemmia del prossimo anno, del 2024, sarà compromessa. Ho 57 anni e non ho mai visto un flagello del genere, ha detto. Ebbè, insomma, veramente una calamità grossa. Veniamo ad Urbino. No, fermiamoci un attimo a Mondolfo, dove è stata presentata la nuova edizione di Come un libro all'aperto, una delle manifestazioni di carattere letterario che comincia a farsi notare anche al di fuori della nostra regione. Ebbene, il noto giornalista Bartoletti condurrà questa nuova edizione come un libro all'aperto a Bartoletti, gli onori di casa. Sarà il noto giornalista a condurre quattro appuntamenti della Kermesse. Tra gli ospiti vi sono personaggi rilevanti, Paolo Crepe, Fabio Caressa, Paolo Iannacci. Si parte il 4 giugno prossimo. Ci sono 11 tappe in otto giorni, dal 4 giugno all'8 luglio. Un calendario di assoluto livello, come ha rimarcato lo stesso Marino Bartoletti, presentando l'iniziativa. E poi vediamo ad Urbino come il turismo sportivo è una veramente una grossa occasione, una grossa opportunità per il nostro territorio perché incentiva l'arrivo e le presenze di tante tante persone. E a Urbino ci sono delle iniziative di grande rilievo come il Rally, la Straducale, il Motobi Race e la Scherm Rinascimentale. Pensate, 3.000 atleti tra addetti e appassionati per quanto riguarda lo sport e il territorio circostante. Si parte con la trentesima edizione del Rally dell'Adriatico, questo fine settimana, e poi la corsa porterà qui 104 equipaggi che vengono un po' anche dall'estero, quindi da molte nezioni. E poi c'è la MTB Race, corsa di mountain bike, organizzata dal team Mondo Bici e Tecnoplast. E poi qui abbiamo 600 atleti. A maggio ci sarà l'ottava edizione di scherma rinascimentale della città ideale, quindi iniziative importanti non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista turistico, perché attivano tante, tante presenze. La Brest Unit rimarrà ad Urbino, rimarrà in funzione. Il centro senologico di grande importanza per quanto riguarda tutto l'entroterra rimarrà appunto nella città Ducale. Non si tocca, ha fatto sapere l'Ast, l'azienda sanitaria territoriale. Lavorerà insieme alla struttura attiva nell'ospedale di Fano. Quindi due strutture che lavorano in collaborazione. E per quanto riguarda il maltempo, è stata rinviata la consegna del sigillo dell'Ateneo a Lamborghini. Tonino Lamborghini, imprenditore ferrarese, quello che ha associato la nota casa automobilistica, doveva ricevere questo grande riconoscimento dell'università, ma il maltempo ha un po' rovinato tutto e ci sarà una data da destinarsi. Vediamo ancora un articolo dedicato a Gino Girolomoni. Chi non conosce Gino Girolomoni, il ventore, possiamo dirlo, tra virgolette dell'agricoltura biologica. Girolomoni, un documentario per scoprirlo domani al cinema Nuova Luce di Urbino, la prima del lavoro curato da Filippo Biagianti, l'epopea del biologico tra storia e aneddoti. Ebbene, l'evento si svolgerà domani sera alle ore 21, con ingressi gratuiti fino ad esaurimento posti. Ebbene, è un'iniziativa per chi non conosce, soprattutto Gino Girolomoni, di scoprire questo personaggio da una personalità avvincente e molto determinata. Allora, apriamo ora il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano, dove vediamo una intervista al sindaco Massimo Seri per quanto riguarda la variante di Centinarola. La novità che nei giorni scorsi ha pubblicato il Corriere Adriatico riguarda il prezzo, il costo dei terreni che sono oggetto di questa variante. Un prezzo che, secondo appunto le stime, è stato supervalutato. Il sindaco si è dichiarato all'oscuro di questo episodio. E quindi ora si rimedita tutta la questione. Ci sarà prossimamente una riunione di maggioranza. Doveva essere poi ieri sera, ma qui anche il maltempo, ma poi anche il problema all'interno del Partito Democratico con la scomparsa di De La Dora. Insomma, ha dilazionato un po' gli appuntamenti di carattere politico. Se ne riparlerà nei prossimi giorni. Ma ci sono delle domande interessanti che il giornalista fa il sindaco. Non le pare strano questa supervalutazione del prezzo? Ebbene, l'imprenditore si è assunto un rischio abbastanza alto, ha detto il sindaco, perché chi fa quel mestiere sa che poi le cose possono cambiare a livello urbanistico. A decidere, infatti, non è la Giunta, ma è il Consiglio Comunale. E nel corso del tempo le decisioni possono cambiare proprio radicalmente da così a così, possiamo dire, da palmo ad orso della mano. E poi, se sapessi che è accaduta una cosa del genere, cioè che qualcuno potrebbe aver garantito quello che non era, quello che poteva essere invece un investimento azzardato, se sapessi che è accaduto una cosa del genere sarebbe grave. Io non sono stato, perché oltre a non sapere dell'acquisto, gli impegni li ho presi tutti pubblicamente, ha dichiarato il sindaco. Anche il Corriere Adriatico si occupa del degrado della zona di Sassonia Sud. Qui vediamo il consigliere regionale Luca Serfilippi, che indica una zona gremita di sterpaglie, di un canneto secco, quindi dimostra come la situazione veramente è trasandata. E poi vediamo come una cronaca giudiziaria si riferisce ad una denuncia per rapina, per il RIS e simulazione, chiesta la condanna di una nomade accusata anche di furto. Si fionda dai carabinieri e dice di essere stata vittima di una rapina, ma a processo ci finisce lei con tanto di analisi sul DNA da parte del RIS di Roma. Quindi era tutto simulato, una vicenda che il giudice ha risolto. Restiamo a Fano per evidenziare l'inaugurazione della rotatoria del CODMA, le rotatorie per la sicurezza, un altro rendering che è realtà. Questa cosa l'ha dichiarata il sindaco ieri con una punta di polemica, perché ha detto insomma noi stiamo facendo i fatti, prima diamo i rendering per dire quello che facciamo, poi questi li traduciamo in realtà ed è stata tradotta in realtà la rotatoria del CODMA. Ancora sulla pagina del Corriere Adriatico siamo a Marotta. Iniziati i lavori per fermare le infiltrazioni a San Gervasio, questa bellissima chiesa che risale ai primordi della religione cattolica, residenti di via Ferrari allarmati, intanto avviato l'iter per il progetto esecutivo. E poi ancora come un libro all'aperto ecco i grandi ospiti che sono stati annunciati dal sindaco Nicola Barbieri per quanto riguarda questa bella manifestazione. E siamo a Senigallia, anche a Senigallia ovviamente c'è l'allerta meteo, cresce la paura perché lì il territorio è veramente soggetto a dissesto, tutti i comuni chiudono le scuole, ordinanze nella Valle del Misa e del Nevole. Anche a Genga decisa la sospensione dell'attività didattica. E questa era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Grazie per l'ascolto. A risentirci. Grazie.